La gloria è una cosa per i grandi, Cilecchio oggi ha dimostrato di afferlarla questa gloria la grande perché ha mostrato tutte le qualità di una grandissima squadra oggi. Sì, ma ha sempre fatti i complimenti all'avversario, Riedi oggi si è vista in campo è una grossa squadra, sicuramente merita la classifica che ha partite come queste nei sogni di ogni allenatore, di ogni giocatore, di ogni bambino, di tutti quanti, sicuramente nella partita in cui tutti chiedono il risultato dappertutto Cilecchio ha vinto, è quella la cosa più importante, sicuramente per una piazza come la nostra sicuramente penso che sia la cosa più importante, è una volta essere protagonisti, indipendentemente vota il campionato che dovremo fare. Si dirà che il Cilecchio ha vinto per il cuore, per la grinta, per la determinazione, ma a mio avviso ha vinto soprattutto per una grossa organizzazione tattica, pressing sul portatore di palla che ha inibito il Riedi sin dai primi minuti di gioco. Sì, sì, molte volte mi è stato detto che è strano che non si porti il 9, però quando porta il 9 va sempre a golle, quindi è normale quando dicevo in tempi non sospetti che questa squadra deve giocare con entrambi i moduli e in base anche all'avversario che va a affrontare. Io dico sempre in questi tre mesi di lavoro che noi ci ricordiamo sempre da dove siamo partiti e sicuramente quello che è successo oggi è un premio alla voglia di questi ragazzi che nonostante tutte le avversità, tutte le situazioni che praticamente molte volte ci sono ripensate contro e non dipendenti da noi, danno sempre il massimo per quello che possono fare. Un Riedi ridimensionato che è il fattore, questa vittoria epica può rappresentare uno snodo cruciale nella stagione del Cilecchio? Io dico invece che per il Riedi deve ripartire da questa sconfitta, nel calcio ci sta, molte volte il Riedi ha vinto il 93esimo, ha vinto l'85esimo, molte volte c'è un po' di fortuna che va magari a chi la cerca con più ardore, oggi il Cilecchio l'ha cercata di più di loro però resta il fatto che qui al fattore il Riedi è la squadra che più ha impressionato quindi merito all'avversario ma merito anche ai miei ragazzi. Mister, sei punti in due partite, adesso nella prossima trasferta il Cilecchio va ancora più consapevole dei propri mezzi, questa è una iniezione di fiducia, una spinta enorme e abbiamo voltato completamente pagina se si pensa soprattutto ad un'inizio di stagione difficoltoso. Sì, diciamo che grazie alla nostra classifica mettiamo qualche punto che abbiamo perso per strada un po' malamente e quattro punti di organizzazione, sicuramente stiamo parlando di un altro campionato. Io dico il Cilecchio, adesso la prova di maturità non è la vittoria di oggi Corrieti ma rigalarsi in quello che è il nostro campionato, quindi con un'umiltà affrontare due trasferte che per me io penso che siano molto più difficili della vittoria di oggi. Impegnate nel nono turno del torneo di eccellenza anche Cerveteri e Ladispoli, i ragazzi di Antolovic sbancano 2-0 il rettangolo del Villanova, cadono 1-0 sul campo del Montefiascone, invece il rosso-blu di Graniero. Ancora calcio, nella nona giornata del campionato di promozione, girone A, il Santa Marinella espugna 1-0 il terreno del Lido dei Pini, finisce invece 0-0 la sfida tra Tolfa e Focene, cade ancora il Santa Severa, la Stolfi, l'Almas, Roma passa 2-1, pari a rete inviolate tra Ostia Antica e CPC. Nel girone B, infine, il corneto Tarquinia fa 1-1 sul rettangolo del Boreale. Passiamo al basket, nel sesto turno del torneo di Serie C2 maschile, la Stemar 90 cestistica cade 75-64 sul parquet del Frascati. I rossoneri di coach Mauro Tedeschi recriminano un arbitraggio a loro netto sfavore. Sesta giornata anche in Serie D, dove il Pirgi Basket Santa Severa, alleato del tecnico Daniele Rinaldi, supera tra le mura amiche della Carducci l'Old Basket Aprilia, con il punteggio di 82-70. Nel quinto turno del campionato di Serie 3 femminile, infine, la Valentino Auto Santa Marinella di coach Daniele Precetti espugna la Casa del Minerale Puro Pomezia per 54-45. E passiamo alla palla a volo. Quarta giornata di campionato positiva per le formazioni locali. In Serie B2 femminile la Comal passa 3-2 in trasferta sul terreno del minturno. In D invece la Tireno Power si impone 3-0 sul rettangolo del Prometeo Monteverde. In Serie C maschile l'ASP supera 3-2 l'Apsia. L'unica sconfitta arriva a sponda Privilege. I ragazzi di Accardo cadono 3-0 sul campo della Virtus Roma. Nella terza uscita stagionale del torneo di Serie 2 gli snipers di coach Valentini cedono 5-4 sul campo del San Benedetto. I nero-azzurri a lungo in vantaggio si fanno recuperare e battere sul filo di lana dai padroni di casa. E per finire, palla a mano, nel quarto turno del torneo di Serie 2 femminile la Flavioni sbanca il campo del Pontinia. Le ragazze allenate da coach Pacifico si impongono 30-18 sulle padroni di casa. E questa era la nostra ultima informazione dell'edizione serale del Tg. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Provincia TV e vi do appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci. Grazie.